Il Campobasso chiude ufficialmente in giornata per il centrocampista Bontà, un elemento dalle spiccate caratteristiche offensive che rispetto alla sua ultima avventura in Molise ormai risalente a quattro anni fa è stato protagonista di una crescita calcistica vertiginosa. Francesco Bontà è nato a Giulianova nel 1993 e nelle ultime stagioni ha vissuto molto da vicino le vicende del Girone F avendo vestito le maglie di Jesina, Monticelli e San Nicolò Notaresco. Ora il suo ritorno in rosso-blu sotto la guida del tecnico Cudini che lo ha voluto fortemente al Campobasso. La società chiuderà la settimana con l'annuncio delle pedine mancanti, lo farà senza fretta perché l'organico è stato in gran parte allestito anche nel giro di pochi giorni con la disponibilità praticamente immediata di molti giocatori. Proprio ieri si è avuta l'ufficialità dell'amichevole contro la Juve Stabbia di Fabio Caserta, fresca vincitrice della Lega Pro. La sgambata è stata prevista per martedì 30 in quel di Rivisondoli, un centro della provincia di L'Aquila poco distante da Roccaraso. Stamattina al Trapedino ufficializzata nel reparto dei fuori quota e del Campobasso il centrocampista classe 2000 Antonio Energe, un prodotto della primavera del Napoli. Nel gennaio di quest'anno arriva al Latina conquistando l'esordio in Serie D. Durante l'esperienza laziale mette in mostra le sue qualità realizzando due reti in sei partite. Nelle ultime ore ha suscitato grande scalpore un video diffuso dalla pagina Facebook Foggia Mania, video che stiamo mandando in onda e nel quale viene intervistata una persona interessata a rilevare la società del Foggia Calcio. C'è la terza domanda in questo momento protocollata per l'acquisizione del Foggia Calcio. Allora c'è l'imprenditore di Matteo con un altro gruppo, con altre persone che piano piano verranno fuori. Tutti quanti nel settore calcio, il direttore sportivo sarà appunto Aniello Martone, il dottor Polcino visto che lo presentiamo sarà il futuro direttore generale della squadra. Noi siamo pronti. Compare in primo piano anche Filippo Polcino, colui che fino a qualche giorno fa era per sua stessa missione direttore generale del Campo Basso in forza di un contratto di tre anni con la società Rosso Blu. E' questo un documento che ha lasciato tutti spiazzati, crediamo in primis, i nuovi dirigenti in carica del Campo Basso. Da questa emittente non vogliamo fare nessun tipo di illazione ma soltanto illustrare la realtà così come viene riportata dal video che stiamo trasmettendo. Siamo rimasti spiazzati anche noi perché evidentemente la circostanza non induce sicuramente a pensare ad un gruppo dirigenziale coeso all'interno della nuova società Rosso Blu. Se è vero, come abbiamo visto, che il direttore generale in carica viene presentato come nuovo direttore generale del Foggia. Siamo certi che questa considerazione non sia sfuggita nemmeno al nuovo socio di maggioranza Mario Gesue che sta concentrando tutti gli sforzi e i sacrifici economici sull'allestimento di un Campo Basso in grado di disputare un ruolo di primo piano nel prossimo campionato. A Disernia la situazione calcistica non si presta a particolari evoluzioni. Il dirigente Piero Biscotti non si stanca di rinnovare appelli alla condivisione di un progetto che non significa, rimarca Biscotti, che ci sia grande necessità di risorse finanziarie ma che un progetto calcistico debba trovare l'appoggio di più forze per resistere al tempo ed essere solido. In questo senso sembra che non ci siano particolari problematiche per la disputa del campionato di eccellenza per il quale Lisernia ha già preparato documentazione, staff e giocatori. Si parla di Umberto Di Giacomo, tecnico isernino che potrebbe essere fra i principali candidati alla panchina bianco-celeste mentre in fatto di giocatori si prospetta un ritorno di Vincenzo Mingione dopo l'esperienza al Rocca Sicura per quello che sarà un progetto improntato sui giovani e probabilmente almeno sulla carta senza grandi ambizioni.